La zucca più grande del mondo è stata coltivata a Rhode Island e pesa 681 chili. A non tutti piace Halloween. Qualcuno ne è proprio terrorizzato. Beh, non fa una piega. La paura di Halloween si chiama Samainofobia. Prima di scolpire le zucche si scolpivano le rape. Eccone una. Il dolcetto più venduto è proprio lo sneaker. Nel conservatorissimo stato dell'Alabama è proibito vestirsi da preti per Halloween. Racconta la leggenda che se vedi un ragno ad Halloween si tratta in realtà dello spirito di un amato. Le zucche non sono tutte arancioni. Guardate qua. Halloween è originario dell'Irlanda, dell'antico festival celtico del Samain. In Inghilterra sono i gatti bianchi che portano sfortuna. Molti centri animali non permettono l'adozione di gatti neri per Halloween per paura che vengano torturati o sacrificati. di Gatti Le zucche si buono La un'idea che provano Grazie.